Ciao a tutti, aspettando la primavera e aspettando Pasqua vi propongo di fare insieme a me queste due simpaticissime presine. Per fare queste presine io ho usato cablet numero 5 di lana gatto e un altro cotone FB filo di scozia, comunque voi potete usare qualsiasi cotone che vi piace, anche in questo progetto si potrebbe usare anche avanzi del cotone. Io ho usato uncinetto numero 1,75 di Milward e ho fatto di vari colori. Credo che queste presine potrebbero anche dare un po' di allegria in cucina. Potrebbe essere anche un'ottima idea, regalo per Pasqua. Se vi piace questo progetto rimanete con me. Ho avviato 30 catenelle, poi ho fatto una catenella per girare e ho fatto 3 giri di solo mali basse entrando in ogni maglia sottostante. Adesso vi faccio vedere, quindi nella ultima maglia bassa io la chiudo con un altro colore. Faccio semplicemente, tiro il filo, ok? Poi questi due fili codina e il filo del colore che ho lavorato prima, io li passo in alto, così, come blocco un pochino e comincio a lavorare con filo verde. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, ok? Ho girato il lavoro, quindi salto una maglia e nella maglia successiva faccio una maglia alta. Una catenella e nello stesso punto faccio un'altra maglia alta, ok? e questo elemento io devo ripetere quindi il prossimo salto due maglie e nella terza faccio lo stesso elemento quindi una maglia alta una catenella e nello stesso punto faccio un'altra maglia alta e così vado avanti a finire il giro salto due maglie in giro sottostante e nella terza maglia faccio lo stesso elemento ho fatto questo giro e se avete fatto tutto giusto ci rimane a fare ultima maglia alta nella ultima maglia del giro precedente e io non la chiudo completamente in quanto il prossimo giro il cambio filo in questo caso prendo il giallo quindi solo tiro ok faccio come ho fatto in precedenza quindi il filo di colore che ho lavorato precedente è codina corta passo sopra e con il nuovo filo faccio 4 catenelle una due tre e quattro fatto e adesso giro il mio lavoro ok adesso noi facciamo quattro mali alte con l'unico vertice entrando in questo spazio quindi cosa faccio getto il filo entro qua tiro il filo chiudo due mali e ho fatto prima malia non terminata getto il filo e ripeto stesso lavoro chiudo solo il 2 che la seconda è fatta facciamo la terza ok e ultima adesso noi sull'uncinetto abbiamo 5 catenelle e li chiudiamo tutti insieme ok fatto adesso facciamo 2 catenelle 1 e 2 e ripetiamo lo stesso lavoro nel prossimo archetto quindi getto il filo entro tiro chiudo solo 2 la prima malia alta non terminata la seconda ok terza ecco qui terza e quarta ok adesso tutti questi mali che abbiamo sull'uncinetto li chiudiamo tutti insieme 2 catenelle e ripetiamo questo elemento entrando in ogni spazio qui fino alla fine del giro così si sono sbocciate i nostri tulipani se abbiamo fatto tutto giusto ci troviamo in questa posizione quindi ho fatto ultimo tulipano faccio una catenella ok e faccio una malia alta qui in questo spazio ok e la faccio non terminata allora all'inizio ho fatto con questo colore besolino nocciolino e non ho togliato il filo e non taglio neanche verde in quanto non mi piace poi a nascondere le codine quindi io ho questo filo marroncino io lo allungo in quanto devo cambiare adesso il filo e finisco la malia alta già con un altro colore che blocco il filo come abbiamo fatto prima guardiamo per non stringere il nostro lavoro e faccio una catenella ok e adesso noi dobbiamo ripetere questa striscia di tre mali basse che è una striscia che separa ogni disegno dall'altro quindi il filo giallo lo posso anche tagliare se voglio poi cambiare fare il tulipano di un altro colore quindi cosa faccio adesso ho fatto una catenella giro il mio lavoro e comincio a fare tutti i mali basse sopra ogni maglia noi dobbiamo stare attenti perché dobbiamo ritrovare trenta maglie quindi cosa faccio faccio una maglia bassa in questo spazio del primo tulipano che sopra questi quattro mali alti con l'unico vertice io faccio qui in questo spazio una maglia bassa e sopra queste due catenelle le faccio due mali basse quindi una e due e così dobbiamo contare le mali per trovare trenta maglie di mali bassi per non essere svasato il nostro disegno e dobbiamo ripetere quindi tre giri di solo mali basse poi facciamo le foglie e poi facciamo tulipani e così andiamo avanti a lavorare fino a ottenere la lunghezza o altezza desiderata del nostro del nostro presina ho fatto quattro rapport di tulipani così si presenta la mia futura presina vi volevo dire che il disegno anche dall'altra parte è uguale ma siccome io sto facendo una presina è abbastanza molice per una presina quindi io ho fatto la seconda parte così solo con le mali basse quindi ho avviato 30 mali il numero di mali uguale a questo che ho avviato qui e ho fatto i giri di solo mali basse e saranno due quadrati uguali e adesso li voglio unire e vi faccio vedere quindi noi li livelliamo cerchiamo gli angoli per la comodità potete anche bloccare con uno spilino allora questi fili in eccesso io non li taglio adesso facendo mali basse attorno le metto dentro il mio lavoro quindi io ho preso questo colore di filo e comincio da questo angolo quindi entro con uncinetto in un angolo prendo entrambi parte del mio lavoro e aggancio semplicemente il filo prendo bene ok aggancio il filo lo stringo e nello stesso punto io faccio un'altra maglia bassa perché prima ho fatto una catenella che ho uguale a una maglia bassa poi a ritorno io faccio ancora una maglia nello stesso angolo perché in ogni angolo le dobbiamo fare tre e quindi vado a unire con mali basse prendendo una maglia da questa parte e una maglia da questa e faccio maglia bassa e così le vado a unire entrambi quindi questo giro solo di mali basse quando arriviamo a questo angolo li facciamo tre mali basse nell'angolo poi andiamo a unire questo questo lato mettendo tutti questi fili dentro lavorando sopra arrivando a questo angolo tre mali nell'angolo tre mali in questo angolo e quando arriviamo qua ci rivedremo ho fatto un giro di mali basse attorno alla mia presina qui tutto a vostro piacere se volete lasciarla così potete fare una asolina e basta se volete potete fare un giro di picco io voglio fare un altro giro un altro bordino se vi piace rimanete sempre a seguirmi quindi io parto da questo angolo e faccio tre catenelle una due e tre ok getto il filo salto due catenelle e nella terza faccio una maglia alta ok fatto faccio 3 catenelle una due tre e faccio picco di 3 catenelle quindi entro nel vertice qui e tiro filo e faccio una maglia bassissima che fatto picco e nello stesso punto io faccio un'altra maglia alta e così si presenta questo elemento e con questo elemento io vado a bordare la mia presina quindi adesso io solo all'angolo ho saltato due adesso salto tre una due no due no tre nella terza faccia e faccio lo stesso elemento una maglia alta ok tre catenelle una due tre faccio picco entrando qui nella vertice tiro il filo se è stupiato il filo un pochino e nello stesso punto faccio un'altra maglia alta e con questo bordino vado a lavorare tutto il perimetro della mia presina qui sono partita con tre catenelle e quindi è uguale a una maglia alta la seconda parte diciamo di questo elemento io faccio alla fine ho bordato la mia presina e sono arrivata all'angolo da dove sono partita quindi ho fatto il picco e adesso chiudo il lavoro entrando nella terza catenella iniziale ok è fatto cosa ci è rimasto a fare facciamo adesso un laccetto per appendere e questo laccetto per appendere io lo faccio con la spighetta romena e vi faccio vedere adesso come la faccio allora io mi trovo in questo angolo adesso metto entro qui e faccio una maglia bassa ok ho fatto una maglia bassa adesso giro il mio lavoro e faccio un'altra maglia bassa allora qui ok adesso giro di nuovo il mio lavoro e qui come possiamo vedere si sono formate due file io entro qua dentro prendo entrambi ok aggancio il filo passo questi due file ok sull'uncinetto abbiamo due maglie adesso e le chiudo due insieme giro il mio lavoro e come possiamo vedere qua sul fianco di nuovo abbiamo questi due mali entro con uncinetto dentro tiro il filo e chiudo altre due e così andiamo avanti a lavorare girando sempre in senso orario giro di nuovo vedo queste due mali entro aggancio il filo tiro e chiudo e così giro ancora prendo queste due maglie tiro e chiudo e così andiamo avanti a lavorare la lunghezza desiderata della nostra spighetta romena e questo risultato finale così si presenta dal davanti del lavoro e così e dal dietro del lavoro è abbastanza consistente in quanto è doppia credo che questo video è stato chiaro e vi è piaciuto e ci vediamo presto ciao ciao